So che viene già detto inizio video, ma preferisco ripeterlo, che non si sa mai. In questo video dirò le mie personali idee rilevanti a questo argomento, che non sono per forza uguali a te che stai guardando il video. Quindi, se la pensi differente da me, puoi comodamente dirmelo nei commenti, ma cercando di mantenere il classico rispetto verso la mia persona, come io cerco di portare il rispetto verso la vostra. Tutto qua. E beh ragazzi, bentornati in un nuovo video di First Step to Vape. Scusate questa intro, ma ho preferito dirlo prima, visto che, non lo so, mi aspetto un po' di discussione rilevante a questo argomento. Perché sì, come avete letto dal titolo, parleremo del Vape Italy Virtual. O meglio, quello che io penso del Vape Italy Virtual. Non mi sono informato rilevanti alle date, anche se ci sono online. E a giugno dovrebbe essere l'11, il 12, il 13, o il 13, 14, 15, insomma. Verso quelle date lì, guardate quando è sabato, domenica e lunedì e saprete quando sarà il Vape Italy Virtual. Voglio dirvi le mie idee rilevanti a questo Vape Italy dopo essermi informato, dopo aver visto video, dirette e quant'altro. Sarà un argomento un po' combattuto, lo so, ma ci tengo a dire la mia, sperando che molte persone la pensino come me. Carità, ormai sono arrivato al pensiero che piuttosto che niente è me piuttosto, però non lo so. Allora, seguendo eventuali live, dirette, informandomi dal sito di qua e di là, sono venuto appunto a conoscenza come tutti, che sarà una pagina dove ci sarà l'eventuale iscrizione, dove si potrà collegare dalle 10 alle 18 tutti i tre giorni, dove non ci sarà il classico giorno, i rilevanti negozi. Tutti i negozianti e persone private potranno entrare sabato, domenica e lunedì. Allora, da questo punto di vista, per me ci sta, sono gli altri che non mi piacciono. Non sarà un video critica, ma sarà un video dove vi espongo i miei pensieri negativi e rilevanti a questa cosa, perché sinceramente non mi piace. Allora, il fatto che non si può comprare, teoricamente non si poteva farlo neanche nelle liste di scorse, quelle fatte a Verona. Quindi sì, effettivamente non si può comprare, questo me l'aspettavo, non sono rimasto troppo scandalizzato da questa cosa. Penso più al fatto che ci saranno, sì, degli stand, chiamiamoli stand, dove noi potremo entrare e visualizzare i vari video, dei vari prodotti, dei vari liquidi che verrà presentato. Questo è il riassunto, va bene, io non parlerò delle live, parlerò solo dell'aspetto, io vado lì, vedo che c'è un liquido o vedo che c'è un hardware. Allora, io la vedo una cosa un po' campata lì, per il semplice fatto che sì, l'hanno definito come un social, dove tutti possono vedere che c'è uscito un nuovo liquido e quant'altro. Tutti hanno cercato di supportare la cosa, che per carità è giusto, perché in questo periodo, visto la situazione che abbiamo, cercare di svariare e di pensare all'altro per tre giorni, anche forse per tre ore, perché ho la disponibilità di guardarci per tre ore, è buono, ok, mi sta bene. Dire che sì, ok, è la fiera, siamo i primi in Italia, in Europa, in America, ok, mi sta bene, ma descriverla come una cosa, tra virgolette, innovativa, perché vedremo tutte quelle cose che stanno uscendo in questo periodo, io non lo reputo poi una cosa così innovativa. Ma perché dico questo? Per il semplice fatto che quando io apro Facebook, le cose che mi interessano, fondamentalmente già le seguo, quindi se escono novità, io le vedo, ma le vedo già su Facebook, le seguo su Instagram, le vedo su YouTube, quindi avere un portale dove io possa andare a vedere le novità, le vedo già su Instagram, su Facebook, non lo ritengo poi una cosa talmente utile, perché ormai tutti voi siete iscritti nei vari gruppi Facebook, seguite le cose che vi possono interessare su Instagram, seguite gli influencer su Instagram, e non mi ci metto in mezzo io, ok, perché io sono una persona che lo fa per hobby. Siete sempre aggiornati su quello che esce, lo vedete nella home, soprattutto nei gruppi Facebook dove ci hanno 30-40.000 iscritti, lo vediamo cosa esce, sarà l'admin che parlerà, questa marca mi ha inviato questi liquidi, io ve ne parlo e quant'altro. Mi sta bene, quindi fondamentalmente delle uscite lo sappiamo già cosa esce. Non ci sarà possibilità di parlare con gli effettivi produttori, anche lì. Mi sta bene che americani sono dietro 8 ore, cinesi sono avanti 8 ore. Mi sta bene, perché ovviamente uno non si può alzare alle 4 di mattina per stare in live chat con noi, che sono le 10. Ci sta. Però almeno agli italiani mi sarebbe piaciuta una live chat, una possibilità di parlare con qualcuno in live chat, non che io tramite un canale che loro metteranno e non si sa nemmeno se metteranno, devo andare nel loro sito e sperare che mi rispondano. Io parlerò adesso da persona amante del Vip Italy e non da persona che sta su YouTube e cerca di portarvi contenuti validi ogni settimana. Perché voglio che sia chiaro questa cosa. Io, quando vi dico queste cose, non sono la persona che deve andare lì per accappararsi i prodotti gratis e portarveli sul canale. Io sono la persona che voglio parlare col produttore per sapere se l'eventuale atomizzatore, l'eventuale hardware o l'eventuale liquido, come è stato creato, come si può utilizzare, quali sono i migliori modi per utilizzarle e quant'altro. Sì, ci saranno dei video esplicativi dove mi diranno tutte queste cose, ok? Però, anche solo ad avere una piccola live chat mettendosi in coda, io l'avrei preferito perché avrei la possibilità di fare magari due domande in più e aver subito la risposta diretta per le cose che mi interessano a me. Invece no, non ci sarà nemmeno questa cosa per gli utenti italiani, da quanto ho capito, perché ci sarà appunto il canale per andare ad acquistarli separatamente. Se dovrò parlare con loro, dovrò mandare una mail, dovrò scriverli su Instagram, dovrò parlarli su Facebook. Questa cosa, cioè, già lo faccio adesso, quotidianamente. Faccio un esempio, il primo esempio stupido che mi è venuto in mente. TNT Vape che ha lanciato la nuova linea ICE, ho voluto chiedere informazioni, mi sono mosso, ho scritto alla pagina Facebook e se mi risponde bene, se non mi risponde sono un cazzi miei, cioè, nel senso, non avrò le informazioni che voglio e quindi essere arrivato a questo punto per ritrovarmi nello stesso punto in cui sono adesso, lo trovo un po' inutile. Cioè, sembro come una persona che non sia contenta perché ha visto la situazione, piuttosto che non avere nulla, per carità, marchi che non seguo, che magari è nato di ieri, è nato un nuovo marchio di box, che fa le box migliori del mondo, io non lo so, perché nessuno ne ha parlato fino a ieri, lo scopre in fiera e dico, ok, buono. Sotto questo punto di vista mi dà la possibilità di vedere tutto, quindi sotto un certo punto di vista è buono, ma sotto un altro lo trovo un po' riduttivo, perché non poter parlare con nessuno, dovrei sperare che magari mandando una mail, scrivendo un messaggio e mi rispondano, non lo so, non l'avevo molto bilanciato questa cosa, mi piacerebbe se loro magari mettessero una piccola live chat, ci fosse la possibilità, almeno quegli italiani, di avere una piccola live chat. Non voglio parlare degli acquisti, non voglio parlare, andare lì e cercare di prendere prodotti gratis, perché non mi interessa questo, perché generalmente quando sono nato i Vipitali, io ho pagato sempre tutto quello che ho acquistato, al Vipitali ho sempre pagato tutto, non ho mai chiesto nulla a qualcuno, io non ho mai chiesto nulla, ah mi dai questo liquido per recensire, perché vado lì per conoscere una nuova cosa e le prendo e le pago. Al Vipitali ho sempre fatto così. Vipitali virtual mi iscriverò, vedrò come entrerò, perché magari scoprirò comunque cose nuove, interessanti da vedere se acquistare e portarvi sul canale. Quindi sì, ma l'idea non lo so, mi sembra un po' riduttiva, per aver cercato una piccola soluzione da proporre a tutti per sopperire a questo problema. Quindi non lo so, a me l'idea non entusiasma più di tanto. Spero che voi siate più interessati di me, siate più ottimisti di me, e nei commenti possiate dirmi no, no, perché ci saranno più opportunità così, così, così. Lo spero ragazzi, spero che voi possiate dirmi questa cosa. Io sono un po' deluso, perché sì che è la prima volta che succederà, sì che magari ci sarà la possibilità di implementare, comunque magari tra le varie fere, tra i vari Vipitali nel 2021, magari faranno Vipitali, Vipitali virtual, Vipitali pro. Quindi è giusto testarle le cose, ma secondo me se l'avessero utilizzato al meglio, se l'avessero dato una marcia in più, secondo me era molto più interessante, avrebbero portato molto più pubblico, perché secondo me, sì, la gente magari ci farà una visita, però non starà proprio l'incollata a guardare tutto per filo per segno. Spero di sbagliarmi, spero di sbagliarmi. Questo è il mio punto di vista. Voglio che voi siate sinceri e nei commenti mi possiate dire la vostra, sinceramente senza aver mancato rispetto a nessuno e quant'altro. Io ho cercato di essere onesto, parlarvi per come io vedo le cose e spero che voi facciate lo stesso con me. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciare un like, commentare qua sotto, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Rimanete aggiornati, ditemi cosa ne pensate di questo Vipitali virtual. Con l'ultima sveppata ci salutiamo. Ciao ragazzi.